Al momento no, però come si era preventivato con il freddo sono aumentati i casi in Abruzzo e in Italia, per non parlare della situazione internazionale che oggettivamente è critica, è critica ma dove adesso? Nell'emisfero boreale dove è iniziato l'autunno e poi ci sarà l'inverno. I coronavirus incidono come virus di raffreddamento in questa fase dell'anno, quindi era assolutamente prevedibile. Il trend è in aumento, si prevedono pare da 15.000 a 20.000 nuovi casi per il periodo natalizio, come evitare ciò? Cercando di convincere chi non si è voluto vaccinare a vaccinarsi, mantenendo distanziamento sociale, utilizzando la mascherina perché purtroppo si è notato un certo lassismo fra i soggetti soprattutto vaccinati, noi invece dobbiamo ricordare che la mascherina deve essere comunque tenuta perché se la teniamo tutti il virus non lo facciamo circolare, anche perché il vaccinato può non ammalare gravemente ma può infettarsi e contagiare. E tutte le altre cose che ormai tutti sappiamo circa appunto le misure di contenimento sociale di Covid-19. Di fronte a una variante, quella delta che è veramente brutta, questo virus è un virus altamente infettante, ciò nonostante riusciamo a contenere la diffusione del virus, io penso che il peggio sia passato. Purtroppo ci saranno malati e ci saranno anche decessi e questo non va bene perché dobbiamo cercare di vaccinarci tutti, di cercare di convincere i grandi del mondo di attuare una vaccinazione globale perché sennò diversamente queste varianti brutte continueranno ad uscire fuori e a danneggiare non solo poi i paesi del terzo mondo da dove si generano ma di fatto tutto il globo. Vediamo che ci sono numeri altalenanti in Abruzzo, perché? Allora, i numeri sono altalenanti perché nel nostro territorio regionale, così come in tutta l'Italia che oggi è colpita dalla circolazione della variante delta, vediamo gli effetti di due contrapposti nemici che si fronteggiano. Il virus che è estremamente infettivo, per cui anche a fronte di molti ospiti protetti o addirittura refrattari, quelli che hanno fatto la terza dose, trova comunque qualcuno da infettare. Dall'altro parte, per fortuna, grazie alla barriera posta dall'unità vaccinale, l'intervento di contact tracing precoce, perché i numeri si mantengono per fortuna ancora bassi e anche l'uso degli anticorpi monoclonali precoci, molti dei focolai adesso abortiscono. Cioè non abbiamo una grossa diffusione di focolai che si allarghino, proprio perché nonostante l'infettività del virus, lo stato vaccinale e gli interventi che possiamo fare ne riescono a spegnere un gran numero. E speriamo che lo scenario si mantenga in questi termini, cioè di una guerra vinta dalla prevenzione nella maggior parte dei casi. Se noi ci godiamo la nostra libertà mantenendo il lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, un razionale distanziamento, possiamo mantenere anche durante l'invernata, che è un periodo sfavorevole per noi perché c'è molta più vita al chiuso, potremmo mantenere una libertà di socializzazione. Se aumentiamo momenti di non controllata socialità, anche le connotazioni del nostro Green Pass, che è ottimo, un po' ci espongono perché purtroppo tra coloro che ottengono il Green Pass con i tamponi, qualcuno contagioso dopo il tampone ci può essere e ci sarà sempre più sessare la circolazione del virus. Quindi dobbiamo fidarci delle norme che ci siamo dati, assolutamente, ma funzioneranno, come ha detto bene lei, nella misura in cui ciascuno di noi contribuirà a farle mantenere funzionali. Grazie.